Eeeh America faccia d'Arza Non è E' faccia d'Arza Non è FANTASY E' FANTASY Siamo qui il corrispondente da San Francisco Da San Francisco San Francisco per Little American Little American Roberto Natalini Anche Jesus Conte Un evento organizzato dalle Systems Perpetual Indigens L'artista Paganda Carte Chi metros Si Chi Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!